Faccio il video. Lorenzo, gli puoi spiegare a loro un attimino dei suoi biofoni? Facciamo adesso un trattamento biofotonico con le campane di petane e il quinto ciagra, quindi col blu, lavoreremo con il blu. Il suo quinto è questo blu e la campana sarà energia sui piedi e il fotografico di noi sarà energeticamente attivato. Il fotografico della campana è lavorato a lavorare qui vicino, sul suo quinto ciagra, sia sopra la campana che è sotto. E poi andiamo sul suo quinto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.